Tragedia sfiorata nella nottata di ieri in via nobile ad Eboli. Un bambino di 8 anni è stato investito da un'auto nei pressi del Cinema Italia. Il piccolo, nonostante l'impatto, è uscito miracolosamente illeso, ma è stato comunque trasportato dagli operatori del 118 presso l'ospedale di Eboli per i controlli del caso.